e ospitare il nostro vice sindaco neoeletto tutti i giovani, facciamo un applauso e l'assessore al turismo è De Manio, anche lui appena eletto adesso ci diranno due parole, cominciamo con il vice sindaco? Buongiorno a tutti, grazie soprattutto al Presidente per aver organizzato questa manifestazione a noi fa molto piacere poter ospitare qualsiasi tipo di raduno perché piace sia ai ragazzi e anche ai meno giovani poter vedere moto d'epoca, moto su strada e quindi io appena mi è stato proposto ho detto subito bellissima iniziativa anche perché nasce dal cuore, come tutte le manifestazioni che nascono dal cuore, volute si riesce sempre anche con pochissimi fondi a portare...